Bene, oggi abbiamo iniziato la visita pastorale con Monsignor Vescovo, siamo nel vicariato 4 della Media e Bassa Valtrebia e Valluretta. Io sono il vicario foraneo, quindi mi è stato chiesto questo servizio di dare una mano a coordinare queste tre comunità pastorali. La prima comunità pastorale è quella di San Nicolò, dove si sta svolgendo la visita pastorale, poi abbiamo la comunità pastorale 2 con Agazzano e Gragnano, le due parrocchie più grandi, e poi la terza comunità è fatta da Niviano, Rivergaro e poi tutto fino ad arrivare quasi a Perino con Travo. Sono solo tre comunità pastorali dove non sono tantissimi preti, abbiamo però l'aiuto di diversi diaconi e abbiamo un punto, potremmo dire di forza, una grande collaborazione dei laici, perché vedono che i preti sono sempre meno e l'occasione di avere pochi parroci residenti dà la possibilità ai laici di mettersi in gioco. Lo vediamo nella comunità pastorale 1, ma anche nelle altre comunità, dove i laici tentano proprio di mettersi a disposizione per tenere aperte le chiese, per fare un po' di liturgie, per aiutare noi sacerdoti che di solito corriamo tra una chiesa e l'altra. Il nostro vicariato non è molto grande, ma parte da San Nicolò, quindi un paesone di 10.000 abitanti, in pianura, va a Calendasco, a Boscone, che siamo sopra al Po e arriva a metà Valtrebbia, quindi siamo già in media collina con delle parrocchette più piccole, zone residenziali rispetto alle zone industriali di San Nicolò, ragazzi e persone diverse, chi è abituato alla città, chi è abituato alla tranquillità della parrocchia di collina. La cosa bella è che diverse persone che abitano a San Nicolò poi di fatto non cambiano vicariato e vanno in collina a Rivergaro, a Travo, e quindi sono sempre dei nostri, potremmo dire. Abbiamo delle difficoltà a volte, soprattutto nella comunità pastorale 3, per raggiungere le parrocchie, perché sono molto distanti, mentre in pianura i chilometri sono molto meno. Io da San Nicolò in 5 minuti arrivo in tutte le parrocchie. Don Valerio da Rivergaro, andare a Niviano, andare quasi a Travo, diventa un pochino più impegnativo. E cambiano le esigenze, ci sono le esigenze delle parrocchie di montagna, dove hanno paura di perdere la messa domenicale o la messa festiva, e ai grandi paesoni dove ci sono magari tanti bambini a catechismo, dove non si mettono d'accordo per il giorno, perché ognuno ha i propri impegni, oppure non vogliono spostarsi da un paese all'altro. C'è anche un po' questo. Il buon sano e vecchio campanilismo un pochino c'è ancora, perché ci tengono a valorizzare le strutture che sono state costruite dai loro genitori, dai loro nonni, e quindi questo ci aiuta anche a tenere aperte le comunità, e a valorizzare, a tenere aperte le chiese. Mette un po' il bastone fra le ruote per la pastorale, perché a volte magari in un paesino dove ci sono solo 4 o 5 bambini, vorrebbero il catechismo lì, ma magari non si riesce a fare. Tornando alla nostra comunità pastorale, è formata da 7 parrocchie. La più grande parrocchia è San Nicolò, è un po' il centro naturale. Poi ci sono altre parrocchie più piccole, Rottofreno, Calendasco e Santimento, dove però c'è una buona partecipazione e le persone si rendono disponibili. E poi abbiamo due parrocchiette piccoline, che sono Centora, Boscone, e la terza cotrebbia, che è ancora media, diciamo, dove di fatto c'è solo un po' la messa domenicale e in estate, d'inverno, no, a Centora. Di fatto sono parrocchie che sono tutte aperte, sono parrocchie dove c'è un po' di comunità cristiana che di fatto tenta di vivere il cammino di fede. Soprattutto per quanto riguarda Calendasco è un anno che sono senza parrocco residente, quindi hanno provato un po' questo dispiacere di non avere più il prete che abitasse in parrocchia, però di fatto si stanno unendo con le altre parrocchie e stanno sperimentando che, insomma, cerchiamo di fare il possibile per esserci. mentre le altre parrocchie di Cotrebbia, di Boscone e Santimento sono anni che non c'è il prete residente, sono già un pochino più abituate a vivere senza prete, anche se desiderano davvero la presenza domenicale. Un punto di forza che è anche stancante è fare molte riunioni per incaricare le persone, cioè coinvolgerle in tutto, dalla festa patronale alla festa d'estate a coinvolgerle nelle varie feste, nelle varie parrocchie, perché tutti possano partecipare e tutti possano dare il loro contributo. Alcune parrocchie hanno degli spazi grandi, altre parrocchie non hanno spazio per niente, però questo non vuol dire che le lasceremo, sì, smetteremo di fare delle attività. Si faranno d'estate quando si può fare sul Sagrato della Chiesa e questo a loro aiuta a dare forza per continuare a sperare un po' nelle loro comunità. Il Consiglio di Comunità Pastorale sta lavorando, avete visto qualche rappresentante, stanno cercando proprio di lavorare per la sinergia, perché si possa lavorare insieme e quello che non si può trovare nella parrocchia lo si può trovare nell'altra. L'importante è che non sia tutto in una e le altre niente. Quindi anche certi momenti di preghiera sono divisi durante l'anno in ogni chiesa. Certi momenti di catechesi per gli adulti si fanno un po' nelle chiese principali, nelle chiese un po' più grandi. Al Vescovo sono state fatte tante domande, stamattina anche con dai più piccoli dell'asilo. Una domanda che il Consiglio un po' ha pensato è quella di avere pazienza, cioè di avere pazienza nel senso di dare il tempo alle comunità di abituarsi a questo nuovo cambiamento, alla mancanza dei preti, alla mancanza magari di avere una risposta immediata, di avere un servizio subito. E quindi il fatto che stiamo lavorando insieme richiede anche la pazienza e il cammino, il cammino che stiamo facendo insieme. Quindi anche al Vescovo si chiederemo stasera di aiutarci in questo cammino, come poter svolgere i passi, cosa mettere al primo posto, come poter migliorare in altri momenti e così via. Per avere un cammino un pochino più sereno nell'affrontare questo grande cambiamento che sta avvenendo. Sono Maria Grazia della parrocchia di Calendasco. Insieme a mio marito sono catechista e seguiamo anche il gruppo del Dopocresima. Per questa visita pastorale del Vescovo ci siamo preparati solamente un paio di volte, perché purtroppo ci sono state le vacanze di Natale che ci hanno impedito di fare gli incontri. Però i bambini hanno guardato i video che c'erano nella lettera pastorale e abbiamo fatto anche alcuni giochi domenica, quelli che c'erano nei giochi per la visita, e sono stati molto entusiasti di questo. Noi ci aspettiamo che questa visita sia un po' come un incontro con Gesù, che praticamente ci guida, che ci dia un'indicazione precisa o comunque un'indicazione sicuramente fatta con il cuore. Sono Marzia della parrocchia di Santimento. Diciamo che sono dentro un po' dappertutto in parrocchia. Mi occupo, sono nel circolo Aspi, sono nel corpo delle pulizie, faccio la catechista. Quando c'è bisogno penso e spero di esserci sempre. Niente, in questo momento abbiamo aspettato con ansia questa visita del Vescovo, perché per noi è una cosa importante e secondo me è uno sprint, cioè una figura importante come la sua ci deve dare uno sprint, che in questo momento purtroppo è un po' affievolito. La nostra purtroppo è una comunità di persone anziane e sì, la fede c'è, perché fortunatamente quella c'è, però insomma io vorrei che ci fossero i ragazzi giovani, perché i ragazzi sono il futuro, in tutto e per tutto. E quindi spero che la figura del Vescovo ci dia un aiuto che assolutamente ne abbiamo bisogno. Sono Marco, della parrocchia di San Nicolò, mi occupo di un po' di cose, in particolare del pastorale delle famiglie, diciamo. Noi siamo, faccio parte del consiglio di comunità, della comunità di Santa Gianna, e ci siamo preparati per questa visita pastorale, un po' alla cieca, con un po' di indicazioni da parte di Don Cignatta su cosa ci veniva richiesto, eccetera. E quindi abbiamo cercato di presentare la nostra comunità in modo che il Vescovo capisse quali sono i nostri problemi, anche le cose belle che abbiamo. e in particolare vorremmo capire anche noi come muoverci per formare. Non siamo abituati a lavorare in comunità di tante parrocchie e dovremmo cercare di integrarci un po' di più. Già il fatto di avere praticamente un sacerdote e mezzo che si occupano di 4-5 parrocchie comincia a diventare una difficoltà. Molti ci saranno già abituati, noi dobbiamo ancora abituarci e cerchiamo di capire come fare. Noi abbiamo una comunità molto grande come popolazione, è una debolezza nel senso che ci si scoraggia vedendo la partecipazione che percentualmente non è grande, però è anche un punto di forza nel senso che c'è un potenziale e c'è anche richiesta di accompagnare almeno i bambini nelle prime fasi e dobbiamo cercare di prendere questa, cogliere questa opportunità. Abbiamo 300 bambini a catechismo, cioè è un onere ma anche un onore e un piacere, un'occasione per sviluppare la nostra comunità. Io sono Rita, faccio parte della parrocchia di Calendasco ma per Boscone Cusani mancava un rappresentante. Allora siccome ho un legame affettivo a Boscone perché i nonni di mio marito hanno fatto per 50 anni i sacrestani e allora ho accettato di fare il rappresentante di Boscone. Boscone è una frazione piccolissima sulla riva del Po e ci saranno circa 200 abitanti però visto che hanno messo la messa prefestiva serve anche alle altre comunità che non c'è la messa prefestiva quindi qualcuno di San Nicolò, di Calendasco così si spostano a Boscone e la chiesa è anche abbastanza piena se vogliamo. Allora io faccio servizio di lettore di coro qui ma se mi trovo là faccio anche là lettore e coro e quello che c'è da fare insomma. Grazie. 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 Grazie.